Il premio cittadino di Valdavond per la pittura ed sono quelle due bellissime opere che sono lì ma in antologia è stato conquistato con quello con le mani va dove ti porta il cuore chi vuole è in antologia e quindi ha conquistato anche lui un posto in antologia mi prendete il... si? e prendiamo questo giovanotto che viene da Apice grazie e l'ultimo che dirà ci vediamo ancora